Adesso l'ufficiale Gabriele Nelli è uno dei giocatori della prima squadra della Trentino Volley, tra l'altro ambiente che tu hai già frequentato Gabriele nella scorsa stagione, adesso però sei a tutti gli effetti un giocatore della nuova Trentino Volley, la 2014-2015, che effetto ti fa? Sono contento di essere, di aver fatto il salto con la prima squadra a Trento, sono molto orgoglioso di essere qua, mi hanno rinnovato qua, è una bella soddisfazione, è questo che sto puntando di arrivare, di arrivare al massimo livello della palla a volo. Tra l'altro tu nella scorsa stagione per un po' ti sei trovato a fare anche il titolare della Trentino Volley di Serie 1, visto gli infortuni di Sokolov e Zabo in sequenza, in quel caso lì hai maturato un po' di esperienza utile. Sì, l'ho avuto molta fortuna, peccato per i miei due compari e adesso mi sono fatto tre partite di esperienza con la prima squadra, sono contento, quest'anno sarà una bellissima avventura da frequentare con massima forza e tanto lavoro per raggiungere i massimi livelli. Arrivi da un anno in Serie B1 molto positivo, ti sei costruito anche lì un buon bagaglio di esperienza e hai fatto spesso e volentieri la differenza. Sì, in B1 abbiamo fatto una buona annata, ci siamo fatti vedere, abbiamo fatto un buon campionato, visto che anche aiutare la Serie A è stato un po' complicato, allenarsi tutti insieme, abbiamo fatto un grandissimo campionato. Hai fatto il tuo esordio in Serie 1 a Perugia a fine dicembre dello scorso anno, adesso invece sarai sempre con la prima squadra, soprattutto conoscerai ancora meglio i metodi di lavoro di Stoic, sai che ci sarà poco da scherzare in quel senso. Sì, ho avuto diverse opportunità di allenarmi con lui, è un allenatore molto serio, non fa passare niente, bravo sul lavoro tecnico di tutti i giocatori, adesso sarà un anno molto difficile da affrontare a testa alta, mai arrendersi e lavorare molto in palestra. Tra l'altro lo farai assieme a tanti giocatori che conosci, perché al di là di quelli della prima squadra ci sarà anche Simone Giannelli, Tiziano Mazzone, insomma sarai un po' nel tuo ambiente, però trasformato e salito di grado. Sì, sono due, cioè con Giannelli mi ha già paleggiato quest'anno, quindi ottima intesa, con Mazzone, grande compagno di squadra, molto di carattere e forte anche lui, sarà un anno divertente dai. Tu nasci come paleggiatore, sei stato trasformato però nel ruolo di opposto, c'era bisogno dei tuoi centimetri e del tuo braccio? Così hanno voluto cambiarmi ruolo, sta andando meglio e sono contento di questo cambio. Ma tu preferisci il palleggio o il ruolo di opposto? No, adesso ho il ruolo di opposto che mi diverto di più.